Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS No Le radici sono importanti nella vita di noi, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe sono fatte per andare a terra. I confini non ne ho mai rispuri, ho sentito che esistono nella mente di molte persone. Grazie per la visione! Grazie per la visione!